Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questo nostro incontro. Io sono l'editore di questo libro e ho volentieri assunto il compito di coordinare la discussione di questa sera. Mi limiterò a fare una brevissima introduzione in cui cercherò di spiegare dal mio punto di vista di editore i motivi che mi hanno spinto a concepire e anche sollecitare la realizzazione di questo piccolo libro. Ma prima di ogni cosa mi consentirete di adempiere a un piacevole compito che è quello di portarvi i saluti del Presidente Zagoli che avrebbe voluto essere con noi, che ci ospita perché questa è un'iniziativa presa nell'ambito delle attività dell'iniziativa dell'Ufficio Studi del Senato e che purtroppo non può essere con noi per motivi di saluto ma io sono convinto che ci sta pensando e che c'è molto vicino e che avrebbe avuto grande piacere di essere con noi. Questo libro nasce dalla percezione di un dischio che la questione referendaria che abbiamo di fronte ci fa correre il dischio di una sproporzione io nella breve introduzione che ho scritto per il libro parlo addirittura di una dismisura tra la portata e la complessità dei cambiamenti che la riforma costituzionale disegna e il carattere molto semplificatorio forzatamente semplificatorio del quesito che viene posto dai cittadini. Questo rischia di fare prevalere nella valutazione e nel giudizio aspetti di natura tattica, contingente, strumentale di legare ad esiti immediati la questione delle scelte e invece stiamo parlando di qualcosa che ha veramente grande rilevanza e importanza nella scelta delle dimensioni di sistema stesso della nostra democrazia. Mi ha colpito molto, se posso fare riferimento a un piccolo episodio privato una conversazione di avantieri al telefono con Lucia Annunziata la cui amicizia mi consente di tenere con lei chiacchierate periodiche molto informali a un certo punto io le chiedevo ma cosa te ne pare di questa discussione referendaria e come andrà a finire e lei mi dice sai Carmine questo è un ternalotto perché dipenderà molto dall'onda emotiva del momento da quello che sarà successo i giorni prima dal modo con cui si muoveranno le passioni e le tensioni immediate il merito vero della riforma nel risultato elettorale rischia di entrarci ben poco ecco io credo che si debba sperare che non avvenga proprio così penso che bisogna fare anche qualcosa di più perché non avvenga così cioè che il compito che noi abbiamo è quello di cercare sapendo che si tratta quasi di mettersi lì col secchiello a svuotare il mare sapendo che bisogna cercare a tutti i costi di introdurre in questa discussione in questa campagna elettorale una serie di elementi di valutazione di merito di quello che effettivamente la riforma propone può sembrare ingenuo a questo atteggiamento e invece non lo è almeno dal mio punto di vista di editore che ho cercato sempre di essere attento a una dimensione civile di questa modalità di interpretare un mestiere ecco io penso che la democrazia è un oggetto fra penso sulla scia di quello che ho imparato dal mio maestro Norberto Bobbio la democrazia è un oggetto fragile delicato, facilmente usurabile difficile da tenere a posto ecco bisogna saperlo aggiornare e manutenere un sistema democratico perché altrimenti si rischia in qualche modo di vederselo sfuggire in una dimensione che poi perde controllo ecco perciò abbiamo usato la parola aggiornare nel titolo di questo libro per questo abbiamo scelto come casa editrice di chiedere a due amici a due persone con le quali condividiamo il senso di questa battaglia a uno storico e a un giurista di scrivere un libro che fosse esattamente un libro di argomentazione né Guido Crains né Carlo Fusaro nascondono una loro complessiva propensione per il sì e anche questa è una scelta che mi sono assunto la responsabilità di condividere con una casa editrice che normalmente si schiera su posizioni che rischiano di avere un po' di cortocircuito con la sua leadership tradizionale ma io penso che il coraggio delle idee è la cosa che più vale e l'onestà e soprattutto la chiarezza delle argomentazioni è quella che poi fa la vera differenza Guido e Carlo non nascondono anche le loro critiche naturalmente il libro è un libro argomentativo per cui chi lo ha letto chi lo leggerà si potrà rendere conto del fatto che non è tutto oro che luce quello di questa riforma tuttavia il punto essenziale è di riuscire a stare al punto dell'argomentazione e di scegliere come si deve fare in democrazia la scelta che è più vicina e più consona in qualche modo all'insieme delle complessità che il tema evoca e io in questo spirito direi che vorrei cogliere l'occasione per ringraziare i tre relatori che partecipano a questa discussione vedete anche qui noi siamo fortunati questa sera perché abbiamo di fronte a noi forse non voglio adesso esagerare ma sicuramente tra queste tre persone sono tra gli assoluti protagonisti della discussione politico-parlamentare che si è sviluppata in questi due anni la ministra Boschi dal punto di vista di una persona che ha con determinazione deciso di firmare nel senso più pieno del termine questa riforma costituzionale e i due capigruppi dei gruppi al senato del partito democratico di Forza Italia che sono stati protagonisti di una non soltanto di una battaglia ma di una costruzione di una discussione di una articolazione molto impegnativa alla ricerca di un equilibrio che poi in qualche modo il Parlamento ha saputo trovare adesso naturalmente si tratta di verificarlo in quello che sarà l'appuntamento elettorale e per questo motivo io penso di dover ringraziare qui loro tre che hanno partecipato noi avremmo voluto ancora di più ancora più larga la partecipazione a questo incontro avevamo invitato un'esponente di 5 stelle il presidente De Maio non gli è stato possibile essere con noi noi ne prendiamo atto naturalmente ma lo spirito di questa discussione vorrebbe essere quello non di una contrapposizione frontale e propagandistica ma di una articolazione effettiva delle posizioni alla ricerca di quelle che possono essere le indicazioni che poi ciascun cittadino elettore potrà per suo conto e consapevolmente valutare per questo io proporrei di cominciare con ponendo sul tappeto una prima questione che mi scuserete per l'autoreferenzialità vorrebbe essere essenzialmente proprio questa che cosa ne pensano questi tre relatori che hanno costruito la riforma elettorale la riforma costituzionale che cosa ne pensano di questo libro il terrore che ho io per l'informazione professionale è che alla presentazione dei libri si parli di tutto meno che dei libri medesimi vorrei cominciare con una indicazione poi vedremo come proseguire ci siamo detti che abbiamo uno schema molto libero aperto noi abbiamo sostanzialmente un'oretta di tempo per stare insieme e volentieri la adopereremo vedremo se facciamo un giro solo o due questo lo decideremo a seconda delle opportunità abbiamo già detto agli autori che loro hanno l'unico compito di tenersi pronti per una breve replica finale io adesso comincerei col dare la parola a Luigi Zanda cosa te ne pare di questo libro? Dunque questo è un libro importante a due autori autorevoli Guido Kranz e Carlo Fusaro ma in realtà anche se il marchio è in fondo alla prima pagina ha anche un terzo autore che è l'editore che avete appena sentito ha un terzo autore perché Carmine Donzelli questo libro l'ha l'ha pensato l'ha voluto ne ha disegnato la forma e poi ha trovato questa intesa con due studiosi che l'hanno scritto ed è un libro importante ed è anche molto importante che esca adesso perché la questo appuntamento che abbiamo con il referendum sulla riforma costituzionale fino a questo punto finora ha visto per lo meno a me così pare prevalere più una campagna elettorale politica che un discorso invece sul merito della questione sul contenuto della riforma sugli effetti della riforma e sulle conseguenze del voto referendario in un modo con il sì o con il no ecco perché penso che Carmi e Donzelli meriti di essere considerato coautore se me lo permettono Crains e Fusaro con loro di questo libro è un libro che con chiarezza ci porta dentro il contenuto della riforma e lo fa esaminando sotto due profili importanti Crains ha un esame storico della riforma come siamo arrivati a questa riforma quali sono stati i passaggi storici che la Repubblica italiana ha compiuto prima di arrivarci e segnalo solo non abbiamo molto tempo segnalo solo un punto che mi sembra politicamente anche molto importante oltre che da un punto di vista proprio ordinamentale istituzionale Crains ci descrive con molta nitidezza che i nostri costituenti mentre trovarono una completo accordo sulla prima parte della Costituzione cioè sulla messa in norma dei principi fondativi della Repubblica la parte che noi consideriamo intoccabile invece ebbero una discussione laboriosa e complessa nello scrivere la seconda parte cioè la parte che riguarda l'organizzazione dello Stato e alla fine che alla fine fu frutto di un compromesso di un compromesso tra posizioni non diverse un compromesso nel 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 del quale pesavano anche posizioni politiche dei vari dei partiti dei grandi dei piccoli partiti che qui facevano parte i costituenti e e quindi è la natura proprio della Costituzione che dà la seconda parte questa della che che dà le norme sull'ordinamento dello Stato che ha una natura modificabile ecco Kleinz storicamente con una rigorosa analisi storica elimina una delle grandi questioni cioè la non modificabilità della seconda parte della Costituzione Fusaro Fusaro fa un auro doppio perché chi di voi ha visto il libro avrà notato che oltre ad aver scritto una aver scritto una descrizione completa della della riforma dettagliata motivata e dirò poi una particolare una parte che mi ha molto colpito poi è anche il curatore di una di una sorta di appendice utilissima per chi vuole andare poi a chi vuole andare al voto avendo ben capito su che cosa deve votare un appendice nel quale c'è incolonnate e quindi facilmente confrontabili il vecchio testo il testo attuale direi della Costituzione il nuovo testo e anche che poi una colonna nella quale l'autore descrive con parole molto molto chiare molto semplici che cosa cambia in che modo la nuova norma cambia la Costituzione questo è un lavoro che è difficile trovare in volumi in commercio e che invece credo che sia essenziale per capire il testo richiamo l'attenzione di tutti voi su una parte del lavoro di Fusaro che è molto importante e che dimostra anche come si fa quando si vuole trattare con metodo scientifico questi argomenti c'è una dettagliata indicazione delle ragioni del no c'è una dettagliatissima elencazione delle ragioni del no e c'è una poi chiara per ciascuna di queste ragioni c'è una chiara esposizione non solo delle ragioni del sì contrapposte a quelle del no ma anche una 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 visibile anche elencazione di quelli che sono i punti meno felici della meno felice della riforma e direi che e da questa da questo dal lavoro di Fusaro noi possiamo capire anche qualcosa della discussione del dibattito in atto perché il dibattito in atto guardate va poi contestualizzato e va anche ben 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 inteso perché ci sono posizioni coerenti e posizioni contraddittorie ci sono posizioni di chi conferma una linea che ha seguito durante non soltanto durante le discussioni di questa riforma ma anche voi sapete che noi abbiamo avuto molti tentativi di modifica della Costituzione quindi molti degli argomenti su cui il Parlamento ha votato sono stati già trattati beh noi abbiamo una c'è una parte dei partecipanti al dibattito attuale che durante questo lungo percorso diciamo così si è spostata si è spostata ed ha ed ha occupato via via posizioni diverse ecco dal dal lavoro di Fusaro si comprende molto bene questa si comprende molto bene anche l'iter delle idee insomma il viaggio delle idee come le idee hanno viaggiato e si comprendano anche le ragioni di contesto che non sono indifferenti quindi il contesto però parlo di contesto parlo di contesto anche europeo il contesto internazionale e il rapporto tra la riforma costituzionale e il resto dell'ordinamento se avremo tempo di questo possiamo parlare dopo perché c'è nel rapporto tra la riforma e il restante ordinamento c'è un punto che è più delicato degli altri e che riguarda il rapporto con la legge elettorale io rispetto il tempo e mi fermo qua molto valentieri hai accennato a un tema che forse se avremo tempo riprenderemo e che come ovvio è naturale al centro della discussione permettetemi di salutare tra i tanti qui presenti due altri protagonisti di questa discussione Anna Filocchiaro e Luciano Violante che ringrazio per essere qui con noi questa sera darei la parola adesso a Paolo Romagni per sentire anche da lui che effetto gli ha fatto la lettura di questo libro allora innanzitutto essendo l'unico esponente del no presente oggi vi rassicuro subito non farò né un comizetto né un comiziaccio sui motivi del no e quindi farò un'analisi spero puntuale anche su quello che ho letto di questo libro mi hanno colpito tre cose di questo libro a parte la puntuale ricostruzione che come diceva Luigi è stata fatta nella prima parte una frase che devo dire condivido fino in fondo che dice che siamo convinti che il novecento abbia ampiamente dimostrato che gli attentati alla democrazia vengono non dalla forza ma dalla debolezza del potere democratico concordo perfettamente avendo citato una cosa su cui concordo ovviamente sono obbligato a citare la frase su cui non concordo e la frase è la seguente qualche pagina precedente dove si dice intesa quella sulla legge elettorale che Berlusconi rompe non per modifiche unilateralmente imposte ma perché il centro-sinistra non accetta veti sulla elezione di un ottimo presidente della Repubblica Sergio Battarella il libro devo dire è anche molto utile a noi che abbiamo vissuto in prima persona perché quando si fanno delle domande rispetto alle critiche c'è una definizione un elenco della tipologia di critica le critiche a prescindere le critiche a monte le critiche di metodo le critiche di merito le critiche in ordine presunti esite delle riforme eccetera si dà un piccolo vorrei chiamarlo riassunto bignamino nel quale uno riesce ad avere sintesi rispetto a ciò che è stato detto a ciò che non che una parte del paese dichiara di non avere di non essere d'accordo e giustamente le risposte che le stesse critiche si danno ho citato la parte che non mi piace perché a mio avviso c'è un'omissione e io penso che valga la pena in questa sede l'ho fatto su un foglio clandestino appunto il foglio dove ho ricostruito un pezzo di storia della rottura del Nazareno e quindi forse vale la pena anche visto che siamo in una sede anche alta importante a raccontare alcuni episodi che forse non sono tutti perfettamente conosciuti ma volevo precedere questo brevissimo racconto con un'annotazione di carattere tecnologico il 27 novembre del 2013 c'è il voto sulla decadenza di Berlusconi il senato toglie la possibilità al capo dell'opposizione di essere presente al senato il 14 gennaio del 2014 c'è la sentenza sul porcellum sentenza negativa ovviamente il 18 gennaio nasce il patto del Nazareno il 22 febbraio nasce il governo Renzi il 31 gennaio del 2015 l'elezione di Mattarella ma in quei pochi mesi è caduto tutto è cambiato il governo è caduto il capo dell'opposizione è stata dichiarata in costituzione la legge elettorale ed è nato un accordo nuovo e rinnovato con quel capo dell'opposizione cacciato da Parlamento il nuovo secretario del Partito Democratico intende fare un accordo un accordo importante e qua voglio dire una cosa sulla quale so che alcuni non sono d'accordo ma la voglio ribadire quell'accordo era importante perché abbiamo parlato si è parlato in quell'accordo di molte cose si è parlato di una riforma costituzionale che prevedesse la fine del bicameralismo meno parlamentari lo dico perché lo voglio ricordare voglio essere intellettualmente onesto si parlò anche di elezioni indiretta del Senato in quell'accordo e di riforma del titolo quinto ma si parlò anche di legge elettorale allora si parlava di modello spagnolo nulla a che fare con quello che è venuto fuori dopo si parlò di un Senato dei sindaci la proposta Renzi-Boschi entrò in Parlamento con un Senato dei sindaci si parlò di condivisione della scelta del Presidente della Repubblica cioè di un metodo di condivisione si parlò e qui faccio anche un sorriso di riforma della giustizia quindi era un accordo quadro un accordo politicamente molto rilevante e la sua rilevanza nasceva anche dal fatto che il nuovo segretario del PD scelse di fare questo accordo a due mesi l'ho ricordato prima della decadenza con il capo dell'opposizione riconosciuto in quel momento due mesi dopo assoluto protagonista e interlocutore affidabile Cos'è accaduto dopo? Io rivendico di avere partecipato a quel periodo di riforma costituente perché rivendico il fatto che Forza Italia nell'agosto del 95 primi giorni di agosto Berlusconi alla Camera fece un forte importante intervento sulla necessità di riforme costituzionali e più o meno i concetti erano quelli che ho espresso in questo patto che ho appena ricordato Poi si aggiunse il lavoro e devo dare atto in questa sede al Ministro Boschi della sua grande disponibilità Il Senato di Sindaci non fu più un Senato dei Sindaci divenne un Senato delle Regioni poi potremmo dire tutto il male possibile delle Regioni ma divenne un Senato delle Autonomie con una rappresentanza proporzionale in base alla popolazione che teneva conto della formazione e del voto espresso nei consigli regionali e anche dei primi di maggioranza con 21 sindaci certamente uno per ogni Regione fu una lunga discussione e l'8 di agosto del 2014 rivendichia in aula a buon diritto il fatto che si stesse facendo una buona riforma Cosa accade dopo? E il libro questo lo dice ci fu sempre un incrocio fra legge elettorale e riforma costituzionale le due cose andavano di pari passo è inutile che ci prendiamo in giro le due cose erano strettamente collegate finiva una Camera alla riforma costituzionale l'altra Camera faceva la legge elettorale si incrociavano i testi e ci furono molti cambiamenti come ci furono molti cambiamenti nella riforma costituzionale ci furono molti cambiamenti nella legge elettorale il modello spagnolo fu tendenzialmente abbandonato salvo il fatto che rimase nell'Italico i 5, 6, 7 eletti in ogni collegio chiamiamolo piccolo venne fuori prima del ballottaggio ci fu fatto una richiesta dura forte accettammo noi siamo sempre stati contro il ballottaggio ma per un atto di conservazione della nostra parte politica siamo sempre stati perdenti nei ballottaggi e quindi accettarlo fu per noi un grossissimo sforzo un atto di grande responsabilità per il rispetto di quell'accordo di riforme che noi comunque volevamo che continuasse a esistere ma poi ci fu il cambiamento che determinò e qui che forse il libro avrebbe potuto fare un approfondimento maggiore ma mi piace approfittare dell'occasione per ricordare in questa sede ci fu il problema del premio di maggioranza alla lista noi eravamo partiti col premio di maggioranza alla coalizione facciamo un accordo col ministro Boschi lungo c'era anche Luca Lotti ricordo il ministro ricorderà ci furono alcuni emendamenti che firmammo insieme ci fu un emendamento che non firmammo che io non firmai come capogruppo ed era quello che inseriva il premio di maggioranza alla lista perché? perché dicemmo allora lasciamo all'aula la possibilità di decidere vediamo quale maggioranza si formerà su questo argomento Luigi Zanda io ero a casa che leggevo i miei libri o guardavo la partita alle 5 del pomeriggio mi chiama Luigi e col suo garbo fa il suo buon'educazione dice ciao Polina come stai? e mi fa ma hai presente che c'è sai cos'è l'emendamento esposito? ma dico sì so cos'è l'emendamento esposito perché me lo chiedi perdonami non mi preoccupa il fatto che io lo conosco a me non mi preoccupa il fatto che domenica pomeriggio mi chiami mi chieda se io so che cosa sia e dice forse avremo un problema infatti il problema c'era il giorno dopo non dico con chi e non dico neanche dove ci fu una lunghissima riunione in cui ci fu chiesto di ottemperare la richiesta perentoria del Presidente del Consiglio rispetto al cambiamento del nostro atteggiamento che avevamo lasciato all'aula ma dovevamo accettare il fatto che anche noi si votasse il premio di maggioranza alla lista voi sapete che il centro-destra è combinato in maniera tale per cui un premio di maggioranza alla lista ci pone dei problemi giganteschi lo dico uno lo dice uno che tendenzialmente ha sempre cercato di privilegiare il centro del centro-destra in un rapporto organico con Lega e Fratelli d'Italia ma rivendicando alla mia parte politica che il centro dovesse avere una sua vitalità e una sua dignità politica purtuttavia purtuttavia con un enorme sforzo furono minuti duri complicati e si intrecciava ecco perché l'ho ricordato si intrecciava il ragionamento della condivisione del metodo della scelta del Presidente della Repubblica e noi siccome ritenevamo importante che fosse garantito questo metodo e questa condivisione concordata non sul nome sul metodo ritenevamo che si dovesse e ci dovessimo sacrificare ancora una volta sull'altare dell'accordo del Nazareno perché si voleva rispettare fino in fondo quel punto quello che è successo lo sapete quindi è inutile che lo ricordi lì è incominciato il problema e lì ci siamo separati io penso che il tempo sia molto cambiato da allora allora noi parlavamo fra due forze due coalizioni centro-destra e centro-sinistra che ritenevano di essere alternative l'una all'altra che potevano trovare un percorso comune di riforma della Costituzione anche della legge elettorale e di altro ma ritenevamo che il fenomeno del voto di protesta andasse a scemare e invece non è accaduto così siamo in un sistema perfettamente tripolare allora io dico che quella rinuncia e quell'accettazione ho quasi finito l'editore che noi facciamo sub all'ottaggio sia oggi un problema allora io mi chiedo l'ho ricordato prima la riforma costituzionale doveva garantire l'efficienza la legge elettorale doveva garantire la governabilità si coniugavano i due concetti perché l'Italia sarebbe stata governata Renzi dice sempre la sera gli italiani vogliono sapere chi governa io gli ho tendenzialmente dato ragione perché quella citazione iniziale che ho fatto prima che mi conserva la fiducia in quello che dice per oggi non è più così e allora mi faccio delle domande la governabilità abbiamo un esempio belga un esempio spagnolo dove i governi non ci sono e vanno da dio questi due paesi pare che non abbiano bisogno di un governo ovviamente è una battuta però quello che accade statisticamente c'è un paese della Germania dove nessuno si ricorda che c'è una grande coalizione nessuno se lo ricorda hanno fatto un programma sono tedeschi 294 pagine si è mai sentito una mosca volare di dissintonia all'interno della maggioranza io non ho mai percepito nulla di diverso fra i due grandi partiti che storicamente hanno governato quel paese e c'è poi chi decide che ci deve essere un governo espresso con un forte premio di maggioranza in un circuito monocamerale di fiducia al governo stesso e ho paura che oggi ho paura che oggi un 25% a primo turno speriamo che non vada a votare solo il 50% ma c'è anche questa possibilità quindi un partito del 12,5% del potenziale reale di questo paese vinca il ballottaggio e si porta a casa il 55% dell'unica camera io intravedo non voglio dire un pericolo della democrazia come direbbe il mio amico Renato Brunetta ma dico vedo un problema perché ho paura che su questo argomento noi dovremmo confrontarci di nuovo e il combinato disposto legge elettorale riforma costituzionale riforma della RAI quindi della più grande macchina del consenso che c'è ancora in questo paese grazie agli ascolti che oggi ha e che per qualche anno presumibilmente continuerà ad avere ho l'impressione che ci sia un pericolo che noi dobbiamo affrontare ho finito e concludo dicendo sento che oggi il Presidente Consiglio Renzi si dichiara disponibile ma l'ha detto anche in un'intervista alla stampa il Ministro Boschi ieri mi sembra c'è un atteggiamento di disponibilità a riaffrontare il problema della legge elettorale io non posso e il libro tutto sommato lo conferma tenere scollegate le due cose l'una viaggia con l'altra è difficile scenderle ma e questo è un dato veramente negativo ingessare il paese su un dibattito di questo tipo che non è sempre come lo stiamo facendo oggi ma che sta ingessando il sistema politico e qualsiasi soluzione forse anche legge di stabilità fino a un 5 dicembre mi sembra un atto di irresponsabilità perché tanto fino a quel momento non sarà possibile modificare la legge elettorale qualunque cosa decida la consulta il 4 di ottobre ammesso che il 4 di ottobre accada qualcosa grazie a Paolo Romani Ministro Ministro Boschi facciamo un passo indietro ripartiamo dal libro se è più possibile grazie non può non può no no buonasera a tutti diceva il Presidente Zamba non posso ripartire dal libro no cercherò di ripartire dal libro visto la premessa sulle presentazioni dei libri che devono avere ad oggetto il libro ma ovviamente il Presidente Romani ha offerto anche degli spunti interessanti riportandoli un po' a retroscena politici diciamo così e anche all'attualità quindi chiaramente poi vorrò dire qualcosa anche sugli spunti che ci ha offerto il Presidente Romani anche perché chiaramente i punti di vista non coincidono sulla lettura di tanti fatti e di tanti avvenimenti che ci hanno visto protagonisti insieme ovviamente ad altri colleghi perché giustamente il Presidente Romani ricordava anche una riunione con il Sottosegretario Lotti ma c'era il Presidente Zandara il Presidente Finocchiano insomma erano vari soggetti presenti quindi che hanno partecipato a quella discussione sulla legge elettorale però tornando diciamo in partenza al libro e mi fa molto piacere parlare del libro in realtà anche con voi io credo effettivamente che sia uno strumento molto utile per chiunque voglia informarsi in vista appunto del voto che poi chiamerà tutti i cittadini io mi auguro un numero molto alto di cittadini a decidere sulla riforma costituzionale con il referendum è uno strumento importante per informarsi e per essere più consapevoli di quello che andremo a fare di quello che andremo a decidere con il referendum peraltro a mio avviso anche con un pregio che è quello di essere preciso perché ovviamente gli autori sono autorevoli e su questo non c'è dubbio ma anche chiaro teoricamente le due cose non dovrebbero essere mai in contraddizione ma talvolta capita che per essere diciamo più puntuali si rischia di utilizzare un linguaggio meno comprensibile per i non addetti ai lavori e invece il libro è molto chiaro e quindi è facilmente leggibile anche per chi magari non è un costituzionalista a cominciare da me chiaramente che non sono una costituzionalista o una storica come il professor Cranzi ma soprattutto io credo che sia anche molto onesto perché fin dall'inizio e anche l'editore diciamo lo ha confermato stasera dichiara di essere un libro che in qualche modo pur cercando di fornire argomenti anche di discussione e quindi illustrando anche le criticità che sicuramente questa riforma presenta di cui i stessi autori per primi diciamo sono consapevoli chiaramente come in tutte le riforme che sono anche frutto di una mediazione però dichiara chiaramente di essere non ostile alla riforma costituzionale quindi io credo che questo sia anche un aiuto per chi deciderà magari di informarsi attraverso questo strumento perché nel momento in cui è onesto rispetto alle finalità credo che possa consentire a tutti di leggerlo con occhi consapevoli sapendo che chi scrive comunque non è ostile ma al tempo stesso non vuole sottacere i possibili difetti o le criticità che ci sono anche nel testo della riforma anzi io credo che nella seconda parte il professor Fusaro fa un'opera anche meritoria che è appunto quella di fare un po' l'avvocato del diavolo cioè di cercare di indicare tutti i punti di debolezza o comunque che sono quelli principalmente sottolineati da chi non condivide questa riforma e quindi in qualche modo spera ovviamente che non diventi realtà e cerca di smontare anche le obiezioni principali che ci possono essere sulla riforma quindi credo che condensi in un unico strumento la possibilità di avere la critica e un tentativo di risposta a quella critica devo dire mi piace anche il titolo che è stato scelto per il libro aggiornare la costituzione e poi diciamo emerge anche dal contenuto del libro perché si cerca di indicare come questa revisione della seconda parte della costituzione sia comunque in continuità con la costituzione stessa ma anche in qualche modo con i lavori che portarono poi ad approvare la costituzione che oggi è in vigore con tutta la consapevolezza da parte dei costituenti delle criticità sulla seconda parte che è appunto quell'oggetto del lavoro che il Parlamento ha svolto negli ultimi due anni quindi della riforma che abbiamo approvato è una riforma sicuramente che ha approvato il Parlamento prima si diceva io l'ho firmata io sono sempre d'accordo con quello che firmo quindi l'ho firmata perché ero d'accordo con questa riforma perché qualcuno poi si scopre non d'accordo con le riforme che ha firmato però è una riforma che il Parlamento ha cambiato giustamente in una dialettica e in un confronto che come ricordava anche il Presidente Romani è stato vero è stato di merito ci sono molti senatori molti colleghi il Sottoseglaro Suizzetti la Senatrice Lomoro insomma molti colleghi che hanno partecipato ai lavori 122 emendamenti sono stati approvati nei vari passaggi tra Camera e Senato quindi è stato un lavoro di confronto e anche di modifica del testo iniziale del Governo molti emendamenti dei relatori tra cui appunto anche la Presidente Finocchiaro la parte e non mi soffermo sui contenuti della riforma perché non vorrei che poi venisse visto come un tentativo diciamo di affermare la bontà delle riforme perché anche io penso sappiate tutti sono dichiaratamente per il sì quindi diciamo che qualsiasi intervento sul merito della riforma potrebbe sembrare appunto lontano dal libro ma sulla prima parte quella più di ricostruzione storica anche del clima in cui poi vennero fatte certe scelte sulla seconda parte della Costituzione quindi sull'organizzazione dello Stato credo che sia molto apprezzabile nel lavoro anche il tentativo di ricostruire davvero il clima politico di quei giorni sapendo che effettivamente i costituenti e le costituenti seppero mettere da parte anche alcune divisioni su temi veramente importanti per scrivere insieme la prima parte della Costituzione sui principi fondamentali sui diritti sui doveri il clima politico però non era diciamo del tutto sereno nemmeno allora nelle scelte che poi portarono a indicare le soluzioni della seconda parte della Costituzione ed è proprio da quella reciproca paura e anche da quella conflittualità politica del tutto normale che poi si arrivò alla scelta del bicameralismo paritario e nel libro vengono riportate molto bene anche le posizioni critiche già allora da Nenni a togliatti già nel 47 rispetto alla scelta del bicameralismo paritario e poi anche negli anni successivi una consapevolezza sempre maggiore proprio a seguito dell'applicazione concreta della Costituzione sui limiti del bicameralismo paritario sulla necessità di superarlo e in qualche modo anche di rafforzare la capacità decisionale del Parlamento e quindi in qualche modo della maggioranza in Parlamento nonché dell'ipotesi di disegnare una seconda Camera come una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali che è poi il modello che è stato scelto anche per questa revisione costituzionale quindi vedere come anche le scelte che poi sono state compiute definitivamente dal Parlamento non siano estemporane ma si inseriscano comunque in un dibattito scientifico politico ma anche nella società civile che si è protratto negli anni ferma diciamo ferma nella prova innanzitutto che dalla tredicesima legislatura ad oggi ci sono circa 36 disegni di legge mi pare di iniziativa governativa per modificare la Costituzione in vari punti i vari tentativi che tutti ricordiamo negli anni ma anche un punto che accomuna più o meno tutti in questa fase di dibattito anche coloro che sostengono il no a questa riforma perché anche chi sostiene il no a questa riforma in gran parte dice perché ne vuole un'altra poi non è ben chiarito quale sia l'altra riforma che vuole e soprattutto la condivisione tra i diversi oppositori a questa riforma su una soluzione alternativa ma tutti propongono comunque di rivedere la Costituzione quindi c'è questo dato di fatto che sembra essere abbastanza condiviso questa riforma ovviamente cerca di dare una risposta dal nostro punto di vista per superare questi problemi per fare un passo in avanti come si sia arrivati a votare queste riforme e come in qualche modo ci sia stato lungo il cammino una separazione diciamo così del destino tra i partiti che hanno sostenuto la riforma fino alla fine a cominciare dal Partito Democratico e Forza Italia ovviamente è più o meno noto alle cronache con punti di vista diversi io posso dire rispetto anche a quello che il Presidente Romani ha ritenuto di indicare come il contenuto del famoso patto del Nazareno che in realtà non condivido i punti che ha indicato il Presidente Romani quindi già su questo c'è subito una divisione perché in realtà non c'era in nessun modo la riforma della giustizia come un tema condiviso tant'è vero che non ha fatto parte né di una possibile revisione costituzionale di quella parte che invece fece parte di altri tentativi di bicamerali per esempio nel passato in cui si tentò comunque una strada condivisa con Forza Italia in questo caso ovviamente non era oggetto della riforma fin dall'inizio né al di fuori della revisione costituzionale perché diciamo tutte le proposte che sono state avanzate dal Governo e sono numerose in tema di giustizia non hanno mai visto l'appoggio di Forza Italia nemmeno nella fase in cui lavoravamo insieme sulla legge elettorale e sulle riforme costituzionali quindi non dico oggi ma nemmeno allora quindi l'oggetto era legge elettorale e riforme costituzionali sul Presidente della Repubblica c'era la diciamo volontà io credo giusta di individuare un consenso il più ampio possibile per l'elezione del Presidente della Repubblica perché questo ci stimola a fare la nostra Costituzione e comunque io credo che sia giusto che sia il più ampio possibile il consenso sul capo dello Stato che ci rappresenta tutti credo che il nostro segretario del partito abbia sempre anche detto che essendo il gruppo più numeroso in Parlamento dovessimo avere in qualche modo anche la responsabilità di fare delle proposte di fare una proposta cosa che abbiamo fatto peraltro credo indicando una persona su cui devo dare atto anche al Presidente Romani non ci sono mai stati rilievi sulla persona scelta ovviamente sul Presidente Mattarella che in qualche modo potesse essere effettivamente una figura su cui si potesse convergere in tanti non una figura divisiva ma assolutamente una figura apprezzata in modo ampio quindi non credo ecco che ci sia stata una rottura da parte nostra dell'accordo se la devo leggere dal mio punto di vista credo che ci sia stata da parte di Forza Italia in quella fase un tentativo invece di indicare il nome partendo da una proposta di Forza Italia perché vi ricorderete che a prescindere dal nome indicato non è una valutazione sul nome rimaniamo sul metodo non poteva essere Forza Italia a indicare il nome questo è stato l'elemento diciamo che ci ha diviso concretamente sulla scelta del Presidente della Repubblica ripeto fermo restando la stima per le persone coinvolte ma era una questione di metodo di rapporti politici sulla legge elettorale diciamo che effettivamente è stato un confronto anche complicato e complesso su una materia così delicata che ha visto tanti passaggi tanti fasi e credo anche sempre animato e lo dimostra anche diciamo l'iter che ha avuto poi la legge è fatta anche di grande rispetto reciproco tra le parti diciamo che si trovavano a dover concordare sulla legge elettorale sulla diciamo capacità che potessimo avere io o Luca Lotti di obbligare l'intero gruppo di Forza Italia a votare una legge elettorale che non condivideva obiettivamente questo è un po' meno corrispondente alla realtà io credo che Forza Italia e in qualche modo anche il suo leader nel momento in cui ha scelto di votare a favore della legge elettorale perché non c'è stato solo un problema di ammendamento esposito Forza Italia ha votato questa legge elettorale al Senato il Presidente Romani ha votato questa legge elettorale comprensiva del premio alla lista e non alla coalizione in modo libero in modo autonomo per una scelta che poi oggi giustamente può essere rimessa in discussione ma che allora venne effettuata consapevolmente e che poi diciamo è cambiata nel tempo del tutto legittimamente però allora fu votata quella legge elettorale che prevedeva il premio alla lista sulla base di un accordo condiviso questo io credo che sia importante ricordarlo altrimenti sembra che diciamo non avessimo trovato un'intesa sulla legge elettorale sicuramente con una grande disponibilità da parte di Forza Italia ma trovando un accordo che tenesse insieme anche altre parti che per esempio convincevano meno una parte del partito democratico come succede in tutti gli accordi perché se facciamo un esempio dei capolista o delle preferenze anche su quello avevamo individuato un punto d'accordo con Forza Italia perché chiaramente aveva esigenze diverse o sulla soglia di accesso al 3% o insomma sulla percentuale individuata per il primo turno tutto è frutto di un accordo nel suo complesso tra le forze politiche coinvolte ovviamente a cominciare dai partiti principali e oggi sicuramente abbiamo detto ci può essere abbiamo detto nel senso che l'ha detto il Presidente del Consiglio perché veniva ricordato prima da Paolo Romani e anch'io ovviamente che c'è una disponibilità ovviamente se in Parlamento dovessero esserci le condizioni anche per immaginare di poter cambiare la legge elettorale se questo comporta un miglioramento della legge elettorale che deve tener conto sicuramente anche veniva ricordato dell'esperienza spagnola io non trovo virtuoso immaginare che ci possa essere un paese che rimane senza un governo e soprattutto senza un governo scelto dai cittadini può essere una stortura può essere un vizio non un esempio virtuoso da portare e lì effettivamente è un esempio che deve farci riflettere perché nel sistema spagnolo si è creato il tema dell'instabilità dell'impossibilità di formare un governo tant'è vero che sono già andati a votare per due volte in un anno non è detto che non ci debbano andare una terza volta proprio perché non c'è un meccanismo come quello del ballottaggio invece presente nell'Italicum che assicuri una certezza di risultato un vincitore l'Italicum è la legge perfetta no anche l'Italicum sappiamo che non è la legge perfetta per carità però tiene insieme rappresentanza e stabilità e governabilità con il premio di maggioranza si può discutere ovviamente di tutto è ovvio che è difficile immaginare che ci sia una legge elettorale che risolve definitivamente poi mi correggerà il tema rapporto rappresentanza premio di maggioranza perché di per sé c'è una disproporzionalità quando si sceglie un modello maggioritario e anzi in alcune leggi elettorali diverse dalla nostra pensiamo al Regno Unito pensiamo alla Francia l'elemento di disproporzionalità è maggiore è implicito è non prevedibile nell'Italicum noi sappiamo che il premio di maggioranza è certo predeterminato limitato e che i cittadini quando vanno a votare per il ballottaggio sanno che andando a votare attribuiranno quel premio di maggioranza a una delle due liste arrivate prima chi non va a votare sa che non partecipando al voto non concorrerà a scegliere chi lo governerà la maggioranza che lo governerà in Parlamento come avviene quando si eleggono i sindaci delle città principali o in alcune regioni ovviamente i presidenti di regione questo perché altrimenti sembra che il Parlamento sia impazzito nel votare dopo dieci anni in cui non riusciva a trovare un accordo sulla legge elettorale proprio questa dice ci avete pensato dieci anni e poi quindi dobbiamo anche partire dal presupposto che è una legge che funziona se poi la vogliamo cambiare perché abbiamo un modello alternativo migliore che quindi ci aiuta ad andare verso un sistema migliore e ci sono i numeri perché possa essere approvato in Parlamento perché ovviamente giustamente la democrazia richiede che ci siano i numeri ovviamente questo è sempre nella disponibilità del Parlamento non c'è nessuna chiusura però attenti a soppesare bene i vantaggi e gli svantaggi di possibili modelli alternativi grazie grazie non so noi abbiamo adesso una ventina di minuti io vorrei di fare un brevissimo forse secondo giro anche in relazione al modo con cui si è sviluppata fin qui la discussione e credo che Luigi Zanna per esempio abbia voglia di raggiungere qualcosa alle considerazioni trattino di relazioni del Presidente Romani non tanto sulle relazioni però se noi parliamo di riforme dobbiamo partire da considerazioni molto pragmatiche politicamente pragmatiche sugli obiettivi che l'Italia che l'Italia adesse bisogno di una riforma costituzionale lo diciamo da da vent'anni e l'hanno detto tutte le forze politiche naturalmente per farla bisogna trovare in Parlamento un equilibrio parlamentare ed una maggioranza che naturalmente che è molto difficile in questa legislatura e questa è una legislatura che va considerata per per com'è per com'è per com'è per com'è nata e soprattutto al Senato maggioranze non sono facili perché i voti sono quelli che sono e il far play parlamentare non è detto che sempre aiuti a trovare delle buone soluzioni Paolo Romani ha ricordato una mia telefonata una domenica pomeriggio beh intanto io voglio dire voglio dire no io me la ricordo benissimo naturalmente ma voglio dire intanto che quella telefonata faceva parte di un metodo che io rivendico è che che penso che debba sempre essere tenuto presente in Parlamento cioè sulle grandi riforme sulle leggi importanti bisogna cercare sempre grandi maggioranze quanto più larghe possibile e non bisogna far tirare tirarsi colpi bassi l'uno con l'altro e quindi ho pensato che fosse necessario avvisare il maggior partito di opposizione di che cosa quali erano le nostre intenzioni ma perché il famoso emendamento esposito noi era una fase della della riforma in cui noi abbiamo avuto 82 milioni di emendamenti di cui 75 milioni alla fine sono arrivati in aula da parte del senatore Calderoni cioè ci sono dei limiti nei rapporti parlamentari che se vengono superati e se non ci si pone rimedio è il Parlamento che viene bloccato la mostra di Calderoni è una mostra che aveva l'obiettivo di bloccare il Parlamento ed era necessario trovare nei regolamenti la possibilità di resistere a quella alla iniziativa sul tema della riforma elettorale aggiungo solo due parole ora noi abbiamo convissuto malamente per una decina da anni con il famoso porcellum abbiamo vissuto con il famoso porcellum che il centro-destra ha imposto all'Italia e che va ricordato perché noi dobbiamo ricordare da dove siamo partiti la Corte Costituzionale lo ha dichiarato incostituzionale ecco un punto che non è stato toccato la nuova la riforma della Costituzione dà finalmente la possibilità alla Repubblica italiana di una valutazione di costituzionalità prima che le leggi vengano utilizzate cioè prima di andare a votare quindi noi non avremo più come abbiamo avuto tre parlamenti eletti come il porcellum perché questa riforma dà alla Corte Costituzionale il potere di verificare prima del voto la legittimità costituzionale della legge l'incostituzionalità del porcellum scusate il tecnicismo è stata dichiarata con una sentenza che ha sostanzialmente in modo chiaro immesso nell'ordinamento una legge elettorale iperproporzionale cioè una legge elettorale che non a mia opinione ma opinione qualsiasi studioso qualsiasi personalità politica che conosca non avrebbe nessuna possibilità di garantire governabilità al paese davanti alla necessità di cambiarla l'Italicum è stata la migliore soluzione che avesse ovviamente una maggioranza in Parlamento altre soluzioni non avevano maggioranza in Parlamento mi dite se l'Italicum è la migliore legge elettorale che per me per me non lo è io avrei preferito i collegi uniluminali di gran lunga ma li voleva soltanto il PD non li voleva nessuno non li voleva Forza Italia non li voleva nessun altro gruppo quindi non c'erano i numeri per farlo questa è stata quindi la soluzione è stata l'unica soluzione che avesse una maggioranza la si può migliorare la si può migliorare certo che si può migliorare anzi se ci sono le possibilità la si deve migliorare ma serve una maggioranza ecco io sono senatore mi occupo del gruppo del Partito Democratico e dico che trovare maggioranza in questo Parlamento e in questo Senato non è facile se ci sarà una diciamo volontà concorde per migliorarla è una possibilità di miglioramento bisogna farlo però bisogna vederla la maggioranza perché la democrazia ha questa regola che decide il 51% almeno ci auguriamo percentuali più alte ma il 51% è necessario trovare il 51% al Senato in questa legislatura non è una cosa facile soprattutto su leggi delicate come le leggi elettorali nelle quali ciascun partito ha suoi interessi i piccoli hanno interessi di un tipo i grandi hanno interessi di un altro insomma quindi vi assicuro che non è facile grazie Romani una brevissima replica anche una brevissima tre cose velocissime emendamento esposito io l'ho voluto citare perché l'emendamento esposito è l'inizio di quella di quella lunga sequenza di emendamenti cosiddetti premissivi che corrispondono al problema che ha evocato Luigi Zanda nel senso che con quell'emendamento fatto di concetto non è un emendamento di legge ci sono dei concetti espressi con cui si riassume tutto tutti gli emendamenti che contraddicono la filosofia descritta in quell'emendamento saltano per aria e quindi gli 85 milioni di calderoli sono saltati per questo motivo ma in quell'emendamento caro Luigi era inserita la variazione del premio di maggioranza dalla coalizione alla lista quello era il significato vero politico quindi il cambiamento era epocale non era solo uno strumento di regolamento parlamentare secondo ministro Boschi il patto del Nazareno era un patto fra gentiluomini c'è stata una stretta di mano e forse lo dico sorridendo forse c'è una paginetta di riassunto di quell'accordo in una fantomatica agenda di un personaggio ben noto alle cronache forse fra 20 anni 50 anni 100 anni i suoi nipoti lo potranno togliere mi hanno ammesso gli atti della storia di questa repubblica ma era un patto fra gentiluomini il metodo di condivisione della scelta del Presidente della Repubblica era appunto un metodo il metodo andava come dire decodificato andava declinato e il metodo non è che dicesse tu non puoi fare un metodo o un vetto un metodo poteva prevedere anche i veti ma era innanzitutto un metodo ma il metodo non escludeva il fatto che qualcuno facesse un nome e qualcun altro ne facesse un altro ognuno probabilmente avrebbe fatto i suoi nomi ma il problema era di capire se questo metodo potesse funzionare o meno a nostro avviso non ha funzionato il metodo quindi noi non ci siamo mai accaniti sul fatto che la scelta finale sia andata alla persona rispettabilissima che si chiama il Presidente Sergio Mattarella il problema era che in quella sede qualcuno dice avete fatto un nome volevate che lo facessimo nostro voi avete fatto no non è stato rispettato una stretta di mano rispetto alla scelta di un metodo che forse non è stato definito o che non si è avuto l'accuratezza di definire finisco dicendo non voglio essere frainteso visto che non ho fatto il cominciaggio iniziale noi non siamo disponibili a modificare la legge elettorale finché non si fa il referendum si faccia questo benedetto referendum lo si faccia il più presto possibile non riusciamo a capire perché si deve aspettare il 5 di dicembre io penso che la lunghissima campagna elettorale che c'è già stata addirittura anche agostana c'è qualcuno che è andato in giro per le spiagge il ministro Boschi è già affaticata non è affaticata è riposatissima fa un comizio fa un accadimento al giorno l'aspettano tre mesi perché settembre ottobre novembre se si vota 5 di dicembre quindi saranno faticosissimi e mi spiace per lei ma mi spiace anche per tutti coloro che ne sarebbero convolti e travolti e mi auguro che il presidente del consiglio avendo questa possibilità sia saggio e anticipi la data del referendum No, semplicemente per chiarire che non è stata fissata la data del referendum quindi non so come mai ritorna il 5 dicembre ma non è stata fissata la data del referendum è perché semplicemente conosce la legge il presidente del consiglio come la conosce il presidente Romani e sa che c'è un intervallo di tempo in cui il consiglio dei ministri può decidere di collocare la data del referendum ma che non è del tutto libero comunque la legge disciplina i termini sia il periodo entro cui il consiglio dei ministri può decidere la data del referendum che come sappiamo tutti sarà entro il 13 di ottobre sia il termine minimo e massimo che poi deve decorrere da quando il consiglio dei ministri fissa la data del referendum del resto anche in occasioni precedenti più o meno il consiglio dei ministri aspettò un po' di tempo prima di fissare la data del referendum oltre un mesetto insomma anche in altri referendum di altri governi in passato quindi siamo nella normalità dei casi tanto più che tutti comprensibilmente a rientro diciamo a fine agosto dalla pausa di ferragosto siamo stati presi giustamente da altre priorità che c'erano nel paese e quindi non è stato questo a rientro il consiglio dei ministri è stato dedicato ad altro però come ha detto il presidente del consiglio lo fisseremo verrà fissato nei prossimi giorni come prevede la legge e quello è l'intervallo di tempo in cui potrà svolgersi tra novembre e dicembre ma non sappiamo ancora la data ovviamente credo che il tempo che abbiamo di fronte a noi possa essere molto utile invece a tutti anche a coloro che non condividono questa riforma spiegare le ragioni per le quali non condividono questa riforma così come per chi invece è a favore di questa revisione costituzionale quindi avere di fronte qualche settimana per poterci confrontare nel merito in modo rispettoso come abbiamo fatto anche stasera delle reciproche posizioni credo che possa aiutare i cittadini a fare una scelta più informata e più consapevole anche perché abbiamo passato la prima parte diciamo dell'inizio di questa campagna referendaria a sentirci dire che giustamente dovevamo parlare di merito che dovevamo stare sul contenuto della riforma che non dovevamo personalizzare che quindi occorreva informare i cittadini lo stiamo facendo tutti e credo che sia utile avere tempo a disposizione per farlo in modo tale che ciascuno faccia la propria scelta credo che sarà una stagione bella per tutti se riusciamo a tenerla sui toni del rispetto e della civiltà sarà una stagione bella per tutti anche per chi diciamo si impegnerà per evitare che questa riforma diventi realtà perché parlare di Costituzione avere voglia anche di discutere su come pensiamo di cambiarla o le ragioni per cui qualcuno non la vuole cambiare penso sia comunque fondamentale per ciascuno di noi perché significa parlare della carta fondamentale quella a cui tutti noi siamo legati quella che tutti noi vogliamo tutelare e farlo in modo condiviso con i cittadini credo sia una parte molto bella del lavoro che ci attende nei prossimi mesi non trascureremo gli impegni parlamentari quindi non starò tutti i giorni in giro starò in Parlamento perché l'attività parlamentare implica la priorità sugli impegni parlamentari ma poi tutti noi ci concentreremo anche su sulle ragioni del sì o del no ed è questo sì se posso permettermi un punto di forza anche di questa riforma quella che la parola finale spetti ai cittadini la Costituzione lo prevede ovviamente i cittadini hanno raccolto le firme per promuovere il referendum quindi è la Costituzione che ci dà questo strumento non avendo i due terzi in Parlamento ma è un'occasione straordinaria per fare un percorso comunque condiviso e qui chiudo su un'unica cosa che ho sentito stasera non sono del tutto d'accordo non su un'unica cosa ma su una delle cose che ho sentito stasera non sono del tutto d'accordo all'inizio se mi posso permettere che il quesito è troppo semplice è vero il significato in cui veniva detto era quello che chiaramente i temi sono talmente complessi che non potranno mai essere riassunti in poche parole è evidente però secondo me uno dei pregi è invece proprio che il quesito è estremamente chiaro estremamente semplice quando apriremo la scheda e ci troveremo di fronte alla scelta tra il sì e il no stavolta il quesito è veramente semplice volete voi superare il bicameralismo paritario volete voi ridurre il numero dei parlamentari volete voi ridurre i costi della politica volete voi abolire le province abolire il TNEL rivedere il titolo quinto sì o no chiaro quindi da questo punto di vista credo che sia un elemento di maggiore facilitazione e semplicità per tutti noi grazie al ministro Boschi grazie ai tre relatori adesso brevemente sentiamo che effetto hanno fatto tutte queste riflessioni così interessanti e anche non completamente omogene ai due autori del libro Guido io voglio dire rapidamente insomma per la parte che mi riguarda insomma voglio dire subito riprendendo una cosa di Zanda che questo non è un libro anche di Carmine Donzelli questo è un libro molto di Carmine Donzelli io stesso che questo è il decimo libro che faccio con lui quindi è una consuetudine di molti anni ho resistito molto come lui potrebbe dire per molte ragioni un po' gli dicevo ma che ti serve uno favorevole che si facesse il libro ma non che ci fosse la parte storica loro che lo facessi anch'io diciamo e in fondo non si vota su De Gasperi cosa ti serve una cosa storica e soprattutto confesso che mi respingeva il clima brutto che si respire prima diciamo di deformazioni di polemica astiosa molte argomentazioni urlate di chi era contro la riforma non c'avevo voglia di mettermi poi è proprio questa cosa invece che alla fine mi ha convinto e mi ha convinto capire insomma quanto fosse fossero sottovalutate alcune cose di fondo intanto una cosa assolutamente inaccettabile la confusione che viene fatta da una parte del nuovo che è stata fatta assolutamente qui fra la prima e la seconda parte della costituzione e poi la sottovalutazione del clima del clima del 46 del 47 in cui quella costituzione fu fatta badate non solo una sottovalutazione di chi non sa la storia eccetera ma noi ci in qualche modo io stesso avevo un po' sedimentato l'idea che noi abbiamo una costituzione non abbiamo un esecutivo forte eccetera perché c'era stata l'esperienza del fascismo ma molto di più ha pesato la paura del comunismo l'incertezza del voto perché noi abbiamo presente il voto del 18 aprile del 48 ma il 2 giugno i voti delle sinistre superano quelli della DC i voti successivi nell'amministrazione la DC non è che recupera nell'amministrativa del novembre del 46 crolla quando si scrive la costituzione la certezza di tutti che vincono le sinistre e di qui appunto questo tipo di struttura della costituzione e da questo punto di vista appunto il tempo è brevissimo vorrei lasciare anche un minuto dei miei a Fusaro che parla più nel merito il modo come si arriva e si vota questa seconda parte della costituzione è un romanzo con molti colpi di scena un finale sorpresa perché il senato fotocopia non era assolutamente della testa di nessuno l'altra cosa sottovalutata è quanto per tempo da quanto tempo dagli anni 70 almeno si avvertisse la necessità di superare questa struttura dagli anni 70 a me è capitato di fare un articolo due anni fa per Repubblica cui molto a passare c'è una cosa che davo per scontata che insomma nel 78 Terracini padre costituente sono presidente della costituzione della costituente fa un articolo fa un libro insomma in cui dice che era il momento di abolire il senato lo dicevo a passare perché lo davo per scontato e mi irritai un po' confeso quando Repubblica lo mise giornale lo mise in titolo no insomma adesso è una cosa marginale e fu una roba ricevente un mucchio di sms di mail eccetera di gente per cui questa di persone insomma colte non sto parlando per cui questa cosa era sottovalutata voglio dire insomma faccio questo esempio per dire che dagli anni 70 in poi la necessità di superare è notissima e diciamo i superamenti vanno in due direzioni opposte e poi diciamo concludo sull'Italicum c'è il presidenzialismo di Craxi per capirci e l'altra versante la riflessione sulla crisi della democrazia l'altro opposto è quella di Ingrao che pensa a una democrazia dal basso democrazia partecipata non è un padre di questa riforma né Ingrao né Berlinguer però sia Ingrao che Berlinguer che Terracini pensavano che la seconda parte della Costituzione andasse a modificare non in questo modo non era nel loro orizzonte certamente ecco per queste sottovalutazioni per la constatazione insomma di queste sottovalutazioni alla fine Carmine mi ha convinto e mi ha convinto anche quello che per me era un modo più duro e su cui concludo e cioè l'Italicum perché per un proporzionalista convinto come me per uno che nel 1993 ha votato contro l'introduzione del maggioritario questo come capite era un problema grosso ma il nodo e non parlo qui dei limiti particolari dell'Italicum dei difetti non entro sto al nodo di fondo di fronte io non riesco a rispondere a questa domanda di fronte al nodo dato da tre blocchi totalmente incompatibili è molto più incompatibile che Spagna perché fra Podemos e socialisti non c'è la differenza che c'è fra Grillini e il PD per fare un esempio fra tre blocchi completamente incompatibili cosa dobbiamo scegliere? la ingovernabilità assoluta? beh insomma se non ce la caviamo con battute grilline per cui insomma Spagna e Belgio vanno bene credo che questa non ci entusiasmi e altrimenti rischi comunque connessi al sistema maggioritario questo è il nodo di fronte a questo nodo io ho fatto prevalere il sì nel senso che sperando che alcune cose che a me non piacciono si cambino però questo nodo non può essere l'uso la ingovernabilità assoluta è inutile pensare lo hanno detto anche autorevolmente anche dei sostenitori seri di questa riforma ma è inutile pensare a governi di coalizione questo è il nodo che abbiamo di fronte e il rischio comunque connesso a maggioritario io temo lo dico appunto con molta fatica è una cosa che non mi so decidere a favore della ingovernabilità non mi so decidere scusatemi e quindi anche il combinato disposto sperando che anche sul combinato disposto sperando che l'Italia sia migliorato se appena è possibile io confermo il mio sì diciamo sostanzialmente grazie mi unisco ai ringraziamenti intanto davvero a Carmine Donzelli che senz'altro merita l'appellativo di coautore e poi agli amici che si sono prestati illustri a discutere del nostro lavoro e poi come il pubblico certamente sperava a ragionare direttamente fra loro sull'onda di alcune testimonianze incrociate che per me sono risultate interessanti prima o poi si ricostruirà questa vicenda naturalmente e quindi non entro nel merito perché e mi prendo diciamo il rabuffo di Paolo Romani sulla ricostruzione che do io di quel passante di quel periodo del gennaio del 2015 perché effettivamente io parlo per fonti dirette ecco oggi ne so qualcosina in più vedremo in futuro a me preme sottolineare un aspetto che il libro si sforza grazie al lavoro di Crainz e mio tutto sommato di contestualizzare questa intera vicenda questo è il punto io credo che questioni di questo tipo senza adeguata prospettiva e contestualizzazione non solo non possono essere affrontate tanto meno possono essere risolte ora ed è venuta fuori nelle parole in fondo sia di di Moschi sia di Romani c'è una grande questione del governo parlamentare in Europa aperta questa è una riflessione che noi dobbiamo fare e forse c'è qualcosa di singolare nel fatto che un paese che di questo problema ha sofferto forse più degli altri e soffre tuttora se evidentemente non lo risolviamo vengano delle ipotesi di soluzione non ho il tempo di addentrarmi ma se guardate bene compresa la Magna Germania vedete i risultati del voto i primi partiti o primo e secondo obbligati a coabitare perdono consensi verso i partiti i cosiddetti populisti o alternativi ebbene questa è una questione aperta in questo quadro va visto tutto il discorso sul cosiddetto combinato disposto io parlerei del paradosso del combinato disposto che si unisce a uno dei motivi per i quali come dire il dibattito cui si assiste da diversi mesi tende un pochino a deprimermi perché è un dibattito di smemorati è un dibattito di gente priva di memoria prima di tutto è un dibattito secondo me in fondo in fondo irrispettoso di un Parlamento e parliamo in una sede che ormai è bicamerale ma insomma è sempre originariamente Senato che ha avuto il coraggio di riformare se stesso in maniera incisiva sembra una cosa naturale una cosa data per scontata ma non è mai stata scontata nella nostra storia politico-istituzionale e giustamente si dice non è scontata nel panorama internazionale comparato questo è un primo punto il secondo punto è questo aspetto della memoria che coinvolge il combinato disposto per esempio perché sono io che ormai per l'età tendo a ricordare di più le cose del passato e non quelle del presente o abbiamo passato alcuni anni al di domani della legislatura 2006-2007 girando intorno allo slogan mai più maggioranze buone per vincere le elezioni ma incapaci di governare ce lo siamo scordato oppure tutta una tradizione questa riforma ha una linea risponde a un filo rosso di continuità con una vicenda che parte dal decalogo Spadolini e continua attraverso tutte le serie passaggi che a quest'ora non mi permetto di infliggervi e arriva alla commissione eletta Quagliarello che un po' la summola perché non parlamentare ma di esperti e di studiosi riassume effettivamente lo stato dell'arte e lo fa in maniera unanima con due eccezioni di due gentili colleghe che decisero di uscire anticipatamente ma tutto il resto sia pure con qualche nota il governo questo ha fatto il ministro Boschi il presidente Renzi hanno tratto dalle conclusioni di quella commissione la loro proposta che poi il Parlamento ha elaborato ha fatto sua eccetera eccetera allora ecco la cosa per cui tenderei a dire mi auguro che quello che dice Maria Elena Boschi sia vero e penso che sia vero comunque vadano le cose questi faticosi sei sette mesi di campagna perché di fatto è cominciata molto tempo fa sulla Costituzione sarà come dire un valore aggiunto per il Paese naturalmente io mi auguro che il lavoro fatto da tante delle persone presenti tutte davvero anche se poi alla fine qualcuno ha raggiunto conclusioni diverse abbia finalmente quello sbocco che io credo sinceramente l'italiano medio si attende quello che non ha troppe come dire grilli intellettuali per la testa e vuole un Paese un po' più semplice un po' più efficiente in grado di decidere di contare in giro nel mondo cosa di cui c'è tanto bisogno grazie bella 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 discussione mi pare discussione civile mi ci ritrovo dentro come stile e come modalità ringrazio a tutti quanti mi pare che il libro alla fine sia stato promosso l'editore pure addirittura passato all'ango di autore chiederò all'editore i diritti di questo libro che mi suggerisce mi suggerisce Luigi Zalla vi ringrazio tutti quanti per l'attenzione e buonasera grazie